Sì, apprezzo quelli che sono stati i passi in avanti compiuti dal governo del Presidente del Consiglio Matteo Renzi per omogenizzare di più le normative italiane alle medie europee, in particolare per quello che è il diritto del lavoro Job Act e per quello che è la velocizzazione delle procedure del diritto fallimentare e per tutto ciò che ci avvicina alla media europea. Noi non possiamo stare in Europa con delle normative diverse o contrastanti dell'Europa.